E' stato votato all'unanimità 23 consiglieri su 23 l'atto di indirizzo presentato dal consigliere comunale di Gela Città, Angela Di Modica, con cui si indica all'amministrazione come affrontare e risolvere la vicenda a tributi. L'ufficio tributi dal comune di Gela, dice Di Modica, deve provvedere tempestivamente ad invitare con avviso bonario il contribuente ad adempiere al pagamento anche in forma rateale e nel caso di bancata adesione procedere immediatamente all'emissione dell'avviso di accertamento non aspettando i famosi 5 anni. In questo modo l'ente potrà garantirsi una tempestiva e maggiore entrata e allo stesso tempo si riducono le sanzioni a carico dei contribuenti. Qualora in fase di discussione dell'avviso bonario si discontra che il contribuente versa in condizione di indigenza, il dirigente potrà proporre lo stralcio della posizione debitoria. Inoltre, al fine di monitorare l'attività dell'agenzia di riscossione, il dirigente del settore dovrà espedire ogni attività di monitoraggio delle riscossioni posta in essere trimestralmente provvedendo, in caso di inerzia del concessionario alla riscossione, alla sua diffida ad adempiere al mandato ricevuto con particolare attenzione a quei crediti certi ed esigibili dell'importo pari o maggiore a 500 euro ed oltre e porre in secondo ordine di importanza quelli di importo esiguo. Nell'atto di indirizzo si fa riferimento anche alla necessità di finanziare i debiti fuori bilancio o passività potenziali probabili per garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio nel tempo e con particolare attenzione alla servizio rifiuti si propone che la parte eccedente e non già coperta dal fondo disavanzo servizio raccolta rifiuti di 1.373.371,81 euro verrà corrisposta al gestore, dunque alla Tecra, con modalità transattiva e successivo riconoscimento dal debito accertato con procedimento di debito fuori bilancio. Con questa procedura si eviterà l'aumento della imposizione fiscale a carico dei contribuenti che già versano in condizioni piuttosto precarie a causa della perdurante crisi economica. Inoltre, in merito ai rilievi sollevati dal Collegio delle Visori dei Conti, circa la montare dei crediti e dei debiti rispetto alle società partecipate, il Consigliere Comunale di Modica propone di nominare un'apposita commissione con appropriate deleghe e poteri al fine di operare una precisa e puntuale ricognizione sulle modalità di gestione delle partecipate e riferire al Consiglio Comunale ogni criticità in ordine alla loro gestione economica ed amministrativa e, precisamente, verificare l'efficienza amministrativa e l'efficienza economico-gestionale al fine di determinare se le rendicontazioni proposte come crediti e debiti sono attendibili ed in quale misura.